Ehi tu! Sei stanco di aprire pacchetti su FIFA e non trovare mai nessuno? Allora passa da easyfifacoins.com e utilizza come discount, come codice e coupon, il codice Axel con 2 Per avere, indovina che cosa? Un ulteriore sconto Potente appare ragazzi! Qua Axel oggi, oh my god, oggi non sono da solo perché infatti sono in compagnia di... Exector, bella ragazzi, è un piacere enorme essere qui oggi sul canale di Axel Eccolo qua e siamo qui a presentarvi un Davolo or Nothing Ahimè un Davolo or Nothing perché infatti abbiamo disputato una partita che troverete sul suo canale Beh si chiama Exector quindi il link lo troverete in descrizione oppure vi basterà cliccare sulla sua faccia E questa partita diciamo che è stata un po' alt'allenante e mi è andata abbastanza male Quindi oggi ci dobbiamo rifare Detto questo, mi sto già cagando addosso, no mi sto già cagando, ah aspetta No, attenzione No, cazzo c'ho l'allenatore Comunque ragazzi siamo tornati, siamo pronti, noi siamo andati pronti, andiamo a vedere la sua squadra Eh la madonna ma che squadra c'ha, due toti questo, i barbo Eh è la stolita, lui intanto ha una 4-3-3-4 della Premier ragazzi Sarà dura ma noi ci possiamo provare Dai Che squadra che c'hai, porca miseria E siamo partiti, eccezionale Let's go, let's go Let's go, l'inglese di esempio Eh la palla per i barbo Che così, se ne va Attenzione A livelli massimi, che culo Addosso a due giocatori è andato Il filosofo, addosso a due giocatori è andato E intanto, Victorone Non fa nulla, bravi così Grandissimo, Rodrigo Che mede lì, i barbo, i barbo Porca vacca No, iniziamo malissimo Avevo già mollato il joystick Io ero già saltato in aria Ma perché? Che culo raga Iniziamo male ragazzi Ottimo Calimero, armero Calimero, armero c'è Bah che schifo Vabbè ma noi ci siamo ancora Noi ci siamo Io no Noi ci siamo Noi ci siamo Ancora Palla per Victor Ma non ci posso credere Io regà sto capendo Mike Sto capendo perché si arrabbiava Mike Lo sto capendo Questi sono dettagli Oddio Beh il giro palla Porta Ma non entra Non ho visto dentro È tipo la terza che passa di lì James James Vai 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 Victor Vai Victor Madonna Victor Madonna Victor Madonna Victor Madonna Victor Mi scatta tutti Ma perché non fischia No vabbè Vabbè Ho già capito come andrà questa partita Si lamentano tanto del momento Quando gli fanno sti favori arbitrali Però intanto Rodrigo 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 Che parata Mostruosa Bravissimo Bravissimo Mi sta dando troppi problemi Ma si così Si così Madonna cazione Con Tony Cruz Dai arbitro Oddio Perché non fischia Madonna Dio mio Non la stavano anche controllando quel giocatore di trattore Fischierabbiamo poi No Si No Si No Si così Si così Attenzione Bravissimo Dio mio Madonna mia I brividi per noi Simpato Calimero Ormero Cosa stavo per fare Col brivido Ci piacciono i brividi ragazzi E' meglio Eh si Oh bello questo Adesso Madonna Calimero Ormero No dimmi che è fuori gioco ti prego Alta quella caspita di bandierina I brividi I brividi Bello Qua ci arriverà Qua ci arriva Ci arriva Victor 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 Ma chi c'ha in porta Dai Si Oddio Ma no Almeno calcio d'angolo Regà Cosa sta succedendo nella mia porta In questa partita Perché sta vogliata No Allarga Vai ed il ciurle Per cui ho detto Per di Maria Tira Prendila Non ha tirato Eh meno male Meno male Bravo casiglia Se ora noi ci siamo No Si Bravo Perez E ora lancialo Lancialo Vai Victor Victor Oh che cos'è Cosa fa E' impazzito Sta impazzendo Palla per il Tony Bella Madonna Madonna Santa Che balle Via mamma Via Oddio Mamma mia Meno male Mamma mia Meno male Oh ti prego Non puoi farmi golo adesso Dopo che ho regalato il pallone Non puoi farmi golo adesso Dopo che ho regalato il pallone C'è Ci arriva Casiglias Grande E' fuori gioco E' fuori gioco Sì Madonna Perché ho fatto il pallonetto No Non faccio mai il pallonetto Non lo faccio mai Grande deghe Amostruoso Una volta che non devo farlo Non lo faccio Una roba Mai fa tutte queste robe Su Il silenzio di chi ha paura Tutte e due Regà Tutte Zitto Di concentrare E andiamo Calivero Calivero E' l'azione del gol Regà Quando vincete un rimpallo L'ha detto Ma stai zitto Che altre gol è Beh Se il difensore Ahia Messa fuori così fa male La palla Messa fuori così fa male Fai Via Ma no Non entra Oh Corre sempre lui No No Staget No No Non dobbiamo prendere gol adesso Non ci credo No 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 Sì Non ci credo Non ho atteso Non si è parato Non è umano Non è umano De Gea Il corpo del cazzo E' passato in mezzo a due Col suo fisico Dobbiamo finire Abbiamo avuto di quelle occasioni Eh sì Eh sì Porca Golden goal adesso Giusto Golden goal 14 tiri a 7 9 e mezzo E siamo 0 a 0 9 e mezzo 9 e mezzo De Gea Dai Gioca partita Golden goal Chi segna per primo vince E io ho veramente paura No Avevo visto lo spazio Meno male Meno male No Tienila Come ha fatto Non lo so Vai Stanno No Incredibile Ti giuro Incredibile Mamma mia Sta succedendo di tutto Vai Aguero Carica Destro L'avevo guarda Come si è abbassata Alla fine Ma perché L'ho deviata Ha un ottimo Tiro Dai salite Grazie Salite Oh Fa venita La buttata È così Sì E finalizziamo E finalizziamo 1 a 0 E l'abbiamo vinta Ames Rodriguez Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Sono 1 a 1 Con le sector Adesso Le partite vinte e perse Prima o poi Lo diciamo Vedrete La bellissima Non la bella La bellissima Assolutamente Sì Assolutamente Esattamente Quindi Detto questo Io spero che il video Vi sia piaciuto Le partite mie di sector Non sono belle per gol Ma sono tesiste C'è l'ansia Che boh si sente Anche a chilometri Di distanza Quindi io non ho più Niente da dire Tu hai qualcos'altro No non ho niente da dire Mi sono divertito tantissimo Il cuore è andato Non ho niente da dire Senza parole È rimasto senza parole No sì Non ho parole Ragazzi Non ho parole Attenzione Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Facciamo Che dobbiamo superare I 6.000 mi piace Van bene Assolutamente sì Assolutamente sì Il link del suo canale Lo troverete in descrizione Se volete vedere la bella Prima partita Dovete appunto andare sul suo canale Detto questo Io vi saluto E vi dico potente A passare nel prossimo video Ciao da Axel Ciao campioni